Continua il Festival del giornalismo di Verona, arrivato ieri alla terza delle cinque serate. Nella cornice dell'antica dogana di fiume si è svolta la giornata dedicata al New Media Journalism, ovvero all'impatto della rete e dei social sull'informazione tradizionale. Vivace l'incontro fra Emilio Mola e Francesco Specchia che si sono confrontati su passato, presente e futuro del giornalismo. Il primo lavora sui social, levanta 111.000 follower su Instagram e 200.000 su Facebook. Il secondo è redattore di libro e fondatore di Pop Economy. La transizione consiste nel fatto che siamo sempre più vicini alla sovrapposizione fra giornalismo digitale, quello analogico della carta stampata e a quello televisivo che è un mondo a parte. Io credo che comunque nella ricerca della notizia, nel cercare di portare la notizia al lettore nel modo più divertente e più divulgativo possibile valga sempre la lezione di Montanelli che è sempre quella. Cioè è sempre stato, io che ci ho anche lavorato, è stata sempre una fonte di ispirazione sia per la scrittura, sia per il senso della notizia che per il senso dell'onore che deve essere comunque sempre applicato al nostro mestiere. La sfida è quella, credo, sarà quella di coniugare qualità e sostenibilità economica. Attualmente per come è strutturato il giornalismo online questo non è ancora possibile, nel senso che gran parte del giornalismo online si basa sul click, sulla quantità, sulla massa e questo spesso non concilia con la qualità. Tuttavia stiamo assistendo proprio in questi anni, come diceva lei, a una transizione. Ci sono tanti esperimenti, tanti laboratori, tante, e questa è la parte più bella, cioè tante attività portate avanti da giovani, che stanno sperimentando soluzioni diverse, quelle degli abbonamenti, quelle del crowdfunding, quelle appunto della qualità, anche la possibilità di accedere al sito liberamente, però se vuoi partecipi anche con un abbonamento, eccetera. Alla fine di questi non so quanto durerà questa transizione, però ci sono in campo talmente tante soluzioni che forse prima o poi la migliore, darvinianamente parlando, verrà fuori. Nel tardo pomeriggio l'incontro dedicato alla satira con Iara Bombana e Marco Tonus e poi Saverio Tommasi, ospite del Festival del giornalismo in occasione dell'uscita del suo ultimo libro, in fondo basta una parola. Il lettore ideale di questo libro? Una persona che è curiosa e che ama i racconti e le storie quando sono vere e scarnificano, arrivano fino alle ossa, le storie che partono dalle parole o le parole che partono dalle storie, chi ha a cuore il lavoro artigianale di ricerca della parola giusta per provare a distinguere le parole dalla massa. Le parole sono come le persone, se tu ti avvicini nessuna parola è uguale, neanche sinonime. Ecco, una persona che ha cura di questo aspetto delle parole, delle storie, dei racconti e dei sentimenti anche quando sono in forma disordinata, fra loro, non chiara. Ecco, le mie parole sono in disordine sentimentale. Grazie.